Bentornati e buon giovedì a tutti, grazie per aver partecipato ieri sera alla live, grazie a tutti gli amici in chat, grazie a tutti quelli che stanno continuando a guardare la diretta, è stata una bellissima serata, indubbiamente un test probante da un punto di vista fisico, perché 5 ore e mezza di diretta non sono proprio semplici, ma ne siamo usciti alla grande, quindi direi benissimo. Voglio ringraziare nuovamente i protagonisti, quindi voglio ringraziare Alberto, voglio ringraziare Cristiano, Francesco, Manuel, Ligabue, Fabio Vittori, Giovanni Bruno, Liutaio Rossonero, Gilbe, Tantalman, Alle Passione Milan, Il Diavolo Veste Milan, Daniele Barbera, Vincenzo, il nostro amico dalla Corea, Emanuele, Marco Paoli e naturalmente Gio Vismara. Voglio rinnovare il ringraziamento a questi ospiti che hanno partecipato a questa serata, che spero si possa ripetere in futuro, non appena avremo modo di parlare di qualche bel argomento, ieri abbiamo fatto un po' il riepilogo della stagione, quindi l'abbiamo chiusa formalmente, e adesso vi faccio il riepilogo del riepilogo. Ci sono alcune cose che sono uscite ieri sera e che secondo me vale la pena sottolineare, ve le dico velocemente e poi passiamo agli argomenti di giornata. Allora, Gazziris non sta molto simpatico, Maldini ha sbagliato fondamentalmente la scelta di Giampaolo, Boban non si è capito bene perché abbia lasciato, ma comunque in relazione alla questione Rangnick, la scelta di continuare con Pioli dettata dai risultati, Ibra dominante, Kier decisivo e sorpresa, il calcio post-covid è solo parzialmente diverso perché c'è stato un campione di partite troppo ampio perché quello del Milan fosse solo un exploit, Benasere che sì sono un'ottima coppia, Rebic è forte, Suso era un problema e ce lo siamo tolti dai piedi, stagione in media tra tutti gli ospiti 5,5-6. Queste sono le opinioni di ieri sera, quello che è emerso dalla trasmissione. Molto bene, allora chiudiamo il capitolo e lo facciamo solo in parte però, perché? Perché questa mattina esce un'intervista di Ralf Rangnick ed è il primo argomento di oggi, allora io ve la leggo perché così poi ne parliamo. Intervista a un quotidiano, non ve lo nomino perché io il tedesco non lo conosco, posso direi Zeitung, ma quello che c'è scritto prima ve lo andate a leggere da soli. Allora dice, il Milan da quando è ripreso il campionato ha fatto molto bene, con nove vittorie e tre pareggi, non sarebbe stato saggio andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo, se dalla mia o se da quella del club, non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi, difficilmente avrei capito perché il Milan avrebbe voluto cambiare tutto dopo un periodo così positivo. E l'ultima frase, alla mia età sarebbe bello guidare un club che possa vincere titoli fin da subito, nel quale non bisogna necessariamente costruire. Allora ci sono naturalmente alcuni interrogativi che ruotano intorno alle dichiarazioni di Ralf Rangnick. Innanzitutto la prima è quella che parte dal fondo, cioè dall'ultima dichiarazione. Perché dice che alla sua età sarebbe bello guidare un club che può vincere titoli fin da subito? Visto che negli ultimi mesi siamo andati avanti a discutere, probabilmente in maniera impropria, del fatto che Rangnick fosse un grande costruttore di progetti, il fatto che l'avessimo scelto andava proprio nella direzione di mettere in piedi un'idea di un certo tipo, con giocatori di un certo tipo, con calcio di un certo tipo. E adesso lui ci racconta che invece la sua volontà sarebbe quella di allenare un club già fatto e finito. Quindi già questa cosa stride un po' con quello che pensavamo fosse l'idea. Poi il discorso di Rangnick è un discorso che giustifica in un certo senso l'operato di Boban, nel senso che Boban ha sbottato in quel modo perché sapeva che Gazzini si aveva preso contatti con Rangnick, evidentemente i contatti ci sono stati, evidentemente il progetto si era intavolato un certo tipo di discorso, poi evidentemente è successo qualcosa. Quel qualcosa può essere o lato Rangnick o lato società. Se è lato Rangnick, cioè lui si è tirato indietro in un certo senso perché ha capito che forse non poteva avere il budget che aveva richiesto, forse non c'erano le condizioni anche da un punto di vista di tempistiche per mettere in piedi il progetto che aveva in mente, forse lo staff che voleva portarsi sarebbe risultato troppo costoso per i Milan. Insomma queste sono le motivazioni lato Rangnick. Le motivazioni invece lato Milan possono essere di due tipi, hanno due nature diverse. la prima natura è quella relativa al discorso economico, cioè si sono resi conto oppure hanno realizzato diciamo che l'ipotesi Rangnick per quanto suggestiva e per quanto anche capace di sgravare Gazzilis da ruoli troppo legati agli aspetti tecnici della squadra sarebbe stata troppo costosa. Quindi sarebbe stata troppo onerosa rispetto a quello che Eliott vuole, cioè Eliott vuole rissanare i conti del Milan, vuole portare in qualche modo il Milan in Champions League per naturalmente aumentare gli introiti e tutto quanto, per farlo forse si è resa conto che Pioli ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic e l'influenza che Ibra ha sui giocatori e sulla squadra e sull'ambiente sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo. Oppure può essere veramente che le cose siano andate così come ci sono state descritte, cioè la squadra gira talmente bene e da dentro soprattutto perché noi vediamo da fuori e siamo contenti, ma chi vede da dentro forse ha analizzato la situazione e ha capito che smontare adesso questo sistema, tra l'altro un sistema che poi, come dicevano anche amici ieri sera durante la diretta, probabilmente continuerà, cioè ci sarà una continuità da questo punto di vista perché alla fine la stagione è vero che si ferma, ma si ferma per poche settimane perché il 24 c'è già ritiro e a metà settembre, tra poco più di un mese, ci sarà già la prima partita ufficiale. Quindi può essere che l'interpretazione che è stata fatta dalla dirigenza sia stata quella di non volere accelerare una rivoluzione che avrebbe comportato tempo, che avrebbe comportato un esborso economico diverso e fare affidamento invece su quello che c'è già, quindi sul consolidato. Queste sono le cose possibili. In realtà poi non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. La forte sensazione che abbiamo trascorso questi mesi a parlare di nulla è grande, in ogni caso non è così perché comunque abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di sistemi di calcio, di metodologie, insomma abbiamo approfondito la questione Rangni che con la scusa di approfondire la questione Rangni in realtà abbiamo parlato di calciatori, ne abbiamo conosciuti tanti, insomma è stato comunque, secondo me, formativo per me e per voi, quindi non è stato tempo perso. Ma in ogni caso le cose sono andate avanti fino a un certo punto e poi evidentemente quel certo punto che noi pensavamo fosse l'annuncio in realtà era molto più indietro da un punto di vista di contatti, di organizzazione e di decisioni. Quindi salutiamo Rangni che forse sta annunciando una panchina diversa, sta annunciando qualcosa di diverso, vediamo se andrà a fare l'allenatore, vediamo se si prenderà una vacanza, vediamo se in futuro, come sostiene qualche amico del canale, ci potrà essere, come dire, una situazione nella quale lui potrà venire al Milan e iniziare questo tipo di progetto. Come ho detto ieri sera durante la diretta, la speranza naturalmente è che questo non sia legato al discorso Pioli, cioè che non sia legato al fatto che Pioli fallisce e quindi poi prendiamo Rangni, che noi dobbiamo, secondo me, essere tutti nella direzione del tifo nei confronti del Milan e sappiamo che il Milan è sopra Pioli, il Milan è sopra Rangni, che il Milan è anche sopra Ibrahimovic, il Milan viene prima di tutto e noi dobbiamo essere orientati a supportare la squadra per andare a prenderci l'obiettivo. Poi dopo, ieri sera, gli amici hanno sostenuto anche che la prossima stagione qualche coppetta l'alzeremo, non lo so, speriamo naturalmente, ma in ogni caso, secondo me, il focus dovrà essere quello di centrare almeno il quarto posto, rientrare nei primi quattro posti della classifica. Speriamo che questo accada. Mettiamo da parte questo argomento e voglio introdurre una domanda che voglio farvi, perché ieri sera si è molto discusso della figura di Rafael Leao, si è molto discusso di quello che può essere il suo talento, di quella che può essere la sua posizione in campo, di quello che può essere il suo futuro nel Milan e le posizioni sono, diciamo, abbastanza convergenti da un punto di vista della valutazione del ragazzo come un talento, sicuramente, come un giocatore con dei numeri importanti. L'amico Vincenzo, in collegamento dalla Corea, ha sottolineato alcuni aspetti, addirittura, diciamo, lui proprio lo vede come un giocatore quasi con dei colpi potenzialmente fenomenali. Ecco, allora io voglio chiedergli qual è la vostra opinione su Rafael Leao e soprattutto come lo vedete in campo, perché sappiamo che anche nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, si è discusso molto della posizione. C'è chi dice che è un attaccante esterno, c'è chi dice che è un centravanti, c'è chi dice che è un centravanti come Marco ieri sera, un centravanti atipico, c'è un centravanti moderno che fa tanto movimento. E nel contesto di una squadra come quella che Pioli ha organizzato, dove il reparto offensivo fa tanto movimento, dove c'è un interscambio di posizioni, ecco che un giocatore come Leao potrebbe anche davvero occupare la casella di centravanti, di attaccanti principali. In quel caso naturalmente le direzioni anche che prenderà il mercato saranno diverse, perché se adesso pensiamo, ci immaginiamo a un vice Ibra, cioè immaginiamo che il mercato ci porterà magari un giovane, magari da formare, ma comunque un centravanti, ecco che forse in realtà da un punto di vista numerico Leao è visto più come un'eventuale alternativa Ibra oppure anche un giocatore da utilizzare nei tre sotto la punta. Ditemi voi che cosa ne pensate, voglio avere le vostre opinioni, voglio sapere che cosa ne pensate, se volete anche della questione Rangnick, ma soprattutto della questione Leao. Ci sentiamo questa sera per il mercato naturalmente e nel frattempo mettete un like al video, se vi fa piacere andate a vedere la live e poi nelle prossime ore pubblicherò i video anche per blocco, quindi ogni blocco avrà il suo video in modo che se vi fa piacere andare a vedere dei particolari interventi e degli ospiti di ieri sera potete farlo in maniera più agevole. Grazie, iscrivetevi al canale, ci sentiamo stasera per il mercato.